Questa sera abbiamo questo compito immane di rendere ancora più bello questo logo che già lo è, con la musica, lo faremo e lo stiamo facendo con grandissimo stupore di tante persone che sono venute. Questa sera avremo la possibilità di ascoltare giovani talenti, meno giovani, concertisti affermati, che ci faranno ascoltare attraverso diversi secoli, dal 500 fino ai nostri giorni. Quindi un tipo di musica accolta, musica impegnata, ma ci saranno anche dei brani un pochettino più leggeri. Comunque un repertorio accessibile a tutti, ci conforta la presenza di tante persone che sono venute e quindi riteniamo che questo sia un sito, sia un genere, siano delle serate che sicuramente vale la pena di fare perché stiamo vedendo che c'è un ottimo riscontro e quindi attraverso i nostri musicisti del territorio e anche agli amici riusciremo a portare avanti queste iniziative perché si può e si deve. Noi vogliamo fare crescere e promuovere il territorio di Real Monte in direzione della bellezza e quello di questa sera è un esempio, il festival della musica con tanti talenti giovani, grandi professionisti che allieteranno i nostri ospiti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.